L'Aula Consigliare del Municipio di Realmonte ha ospitato la seconda edizione del seminario Varietà e Potenzialità della Costa di Realmonte, patrimonio da preservare e valorizzare. Alla presenza di numerosi e prestigiosi relatori, contributi dell'autorità istituzionale, dei tecnici, dei rappresentanti dell'associazione, moderati dal professore Luciano Carrubba, hanno consentito sia in presenza che in collegamento di tracciare un'attenta disamina dello stato di salute della Costa realmontina in particolare. Nel sito della Scala dei Turchi, ponendo i riflettori sulle criticità e le soluzioni adeguate per consentire la prossima apertura di uno dei luoghi più belli del mondo. Incontro dibattito questa sera sulle varietà, sulle potenzialità della Costa di Realmonte, patrimonio da valorizzare e preservare. Questo è il titolo, siamo alla seconda edizione che abbiamo voluto fortemente. Io per la partecipazione di questa sera ringrazio di cuore il colonnello Stingo, il comandante Ventriglia, la parte scientifica, il professore Randazzo, il professore Cancellieri, insomma tutti quelli che hanno partecipato, la parte tecnica, i tecnici comunali, l'ingegnere Zicari, l'ingegnere Asceri e tutti quelli che hanno composto questo grande e meraviglioso team. Ringrazio altresì l'euro parlamentare Tardino che è stata qua assumendosi degli impegni sul finalmente inserimento della Scala dei Turchi come bene UNESCO, sulla risoluzione della questione che riguarda la vertenza in sede civile, insomma a 360 gradi, così come aveva fatto il ministro che era venuto qua e come continuano a fare i governatori, insomma la parte, il governo centrale. Che dire, come sindaco di questo territorio, che crede nel territorio, crede nella sua valorizzazione, nella sua promozione, ma anche e soprattutto nella sua tutela, non posso che essere entusiasta di questo tipo di confronto e di incontro. Perché si mettono in luce le criticità, perché si parla di soluzioni, perché si va alle questioni che possono essere risolte concretamente in modo da crescere nella giusta direzione, con uno spirito di squadra finalmente, quando nel 2023 siamo alle porte di aggrigendo capitale della cultura 2025, quindi due anni, per adeguare il sistema infrastrutturale, l'economia di questo territorio al trend che richiede appunto la capitale della cultura, che in questo caso, lo abbiamo detto più volte, è provinciale, quindi un taglio diverso che vede i comuni, i 43 comuni che fanno parte di questa provincia, uniti insieme, squadra, per la crescita non solo culturale e la sua valorizzazione. Sappiamo tutti che la Sicilia è culla di cultura, ma soprattutto è anche per una crescita socio-culturale ed economica, in modo da veramente fare la differenza. Stiamo lavorando perché la Scala dei Turchi e il Real Monte siano veramente un'attrazione turistica per tutto il mondo. Innanzitutto non si può prescindere dal fatto che la Scala dei Turchi diventi veramente patrimonio dell'UNESCO, anzi siamo veramente stupiti come ancora non lo sia. C'è una richiesta che stiamo portando avanti, stiamo cercando di aiutare l'amministrazione comunale per far sì che vengano sgravati da certi oneri fiscali, che non è corretto che un'attrazione come la Scala dei Turchi ancora subisca e poi certamente l'impegno fondamentale è perché le infrastrutture legate alla mobilità che consentono di arrivare a Real Monte e così come nell'Agrigentino Tutto vengono rafforzate. Dal Parlamento europeo è arrivato un progetto di revisione ad opera della delegazione di cui faccio parte della rete TNT e che collegherà finalmente l'anello sud della zona territoriale che viviamo, quindi la parte sud della Sicilia, alla rete europea dei trasporti. Questo chiaramente ci consentirà di poter partecipare, di poter avere dei finanziamenti a livello europeo e di sviluppare la rete su gomma e ferroviaria anche per questa parte della Sicilia che è purtroppo abbandonata da decenni. Un intervento dibattito fondamentale, quello che attiene alla protezione e alla valorizzazione della Scala dei Turchi. Un momento di riflessione offerto dall'amministrazione comunale volto a rendere questo bene nuovamente fruibile, aprendolo e liberandolo da queste catene, da questa imbrigliatura dovuta alle reti metalliche che in qualche modo ricordano ancora i momenti in cui il bene era sotto sequestro. Il dibattito odierno muove da una considerazione fondamentale secondo me e cioè che una costa bella può anche essere utilizzata per l'economia. Le due parole su cui ci si concentrava nel dibattito sono preservare e valorizzare. Evidentemente la valorizzazione non è un compito delle forze dell'ordine, sta alla politica, scegliere gli strumenti e stabilire le linee. Noi che cosa facciamo? Facciamo soprattutto protezione. È una protezione, nel mio breve indirizzo di saluto ho detto che deve essere soprattutto prevenzione, perché è chiaro che la bellezza naturale nei momenti in cui viene aggredita in un certo senso già è compromessa. Quindi l'attività che noi dobbiamo fare in un'ottica di valorizzazione, per chiaro il presupposto della valorizzazione è la prevenzione. È chiaro che è un'attività che a monte poi richiede uno scatto culturale, perché si diceva anche nel dibattito, cioè se non c'è consapevolezza ambientale tutto il resto diciamo fondamentalmente perde di significato. E la consapevolezza ambientale inizia dalla famiglia, si sviluppa nella scuola e poi si applica da buoni cittadini. Oggi è importante partecipare a questo incontro dibattito sulla protezione e valorizzazione della Scala dei Turchi e del paesaggio e dell'ambiente. Questo perché ha una grande valenza educativa. Noi scuola ci occupiamo proprio di questo, di educare i giovani al rispetto dell'ambiente, alla valorizzazione dell'ambiente e soprattutto la sua conoscenza, in quanto dobbiamo ispirare questi giovani a vedere il loro patrimonio naturalistico, ambientale, monumentale all'insegna della bellezza.